ciao ragazzi benvenuti in questo video di esercizi di cinematica faremo degli esercizi introduttivi alla parte di cinematica se parti da casa tua come indicato in figura vai prima in biblioteca e poi a scuola che distanza hai percorso e qual è stato il tuo spostamento ricordiamoci la differenza distanza è il tragitto che è stato coperto in totale è una grandezza scalare possiamo indicare qui con i sommando i vari tratti se da casa si va prima in biblioteca si copre una distanza di 0,75 più 0,60 dopodiché dalla biblioteca si va a scuola coprendo un'altra distanza che questa qui di 0,60 pertanto il risultato di questa banale somma è 1,95 chilometri lo spostamento è una grandezza vettoriale che viene determinata dalla posizione finale meno la posizione iniziale la posizione iniziale era la casa che consideriamo qui come origine del nostro sistema di riferimento perciò è la posizione 0 l'ultimo luogo in cui ci si trova è la scuola qui che dista 0,75 chilometri dal punto di partenza bisognerà fare 0,75 meno 0 che era la posizione di partenza il risultato è 0,75 chilometri in questo caso il segno è positivo vuol dire che lo spostamento risultante è questo qui nell'esercizio poi viene richiesto un secondo punto se dalla scuola si va in palestra e poi si ritorna a casa che distanza abbiamo percorso e qual è stato lo spostamento il nostro punto di partenza è la scuola dalla scuola si va in palestra che dista 0,60 più 0,35 dopo di che si ritorna a casa e la casa dista 0,35 più 0,60 più 0,75 chilometri questa è la distanza percorsa ovvero bisogna sommare tutti i singoli tratti il risultato di questa somma è 2,65 chilometri quanto vale invece lo spostamento la posizione finale è casa cioè la posizione 0 meno la posizione iniziale che era la scuola che era posizionata diciamo così a 0,75 chilometri il risultato è meno 0,75 chilometri in valore assoluto questo risultato è uguale a quello ottenuto in precedenza il segno meno indica che lo spostamento in questo caso è rivolto da questa parte un giocatore di golf mette in buca la pallina in due tiri qual è la distanza percorsa dalla pallina e qual è il suo spostamento con il primo tiro il giocatore manda la pallina nella posizione b con il secondo tiro manda la pallina in buca pertanto la pallina va da b a c vediamo la distanza totale la pallina percorre la distanza data dalla somma di questi tratti ovvero 10 più 2,5 dopodiché torna da b a c pertanto nuovamente 2,5 tutti questi sono metri il risultato finale è 15 metri per lo spostamento dobbiamo fare la posizione finale la pallina si trova in buca che dista 10 metri dalla posizione che consideriamo come origine pertanto sarà 10 metri meno il punto di partenza che abbiamo posizionato a 0 e allora il risultato è 10 metri un atleta percorre i 200 metri piani in 19,74 secondi qual è la sua velocità media esprimere il risultato in metri al secondo e in chilometri orari per determinare la velocità media utilizziamo la formula delta s su delta t lo spazio è espresso in metri il tempo in secondi pertanto abbiamo già le unità di misura corrette per poter esprimere il risultato in metri al secondo il risultato è 10,1 metri al secondo vi ricordo che per trasformare i metri al secondo in chilometri orari dobbiamo moltiplicare per 3,6 otteniamo perciò 36,4 chilometri orari questa è la velocità media guida il tuo motorino lungo una strada diritta a 20 metri al secondo per 10 minuti quindi a 30 metri al secondo per altri 10 minuti qual è la tua velocità scalare media vediamo un metodo generale per risolvere questo tipo di problemi dopodiché facciamo una considerazione per risolverlo in maniera più rapida in generale per questo tipo di problemi conviene calcolare lo spazio percorso nei due tratti lo spazio percorso nei due tratti uguale a v per t pertanto per quanto riguarda il primo tratto dobbiamo fare v1 velocità media nel primo tratto per il tempo espresso in secondi per quanto riguarda il secondo tratto dovremmo fare 30 metri al secondo sempre per 600 secondi perché abbiamo sempre un tempo di 10 minuti e questa volta otteniamo 18 mila metri a questo punto sommiamo i due tratti diciamo così s1 s2 e otteniamo 12 mila più 18 mila fa 30 mila metri ovvero 30 chilometri e possiamo calcolare la velocità media facendo s fratto t1 più t2 oppure si può direttamente indicare qui al posto di s questa somma s1 più s2 che io ho fatto parte perché era un conto comodo il risultato sarà ovviamente 30 mila metri diviso 1200 secondi che la somma di 600 più 600 questo rapporto fornisce come risultato 25 metri al secondo vi faccio notare una cosa dal momento che il motorino sta viaggiando per 10 minuti a 20 metri al secondo e poi per 10 minuti a 30 metri al secondo in questo caso quando i tempi sono uguali basta fare la media tra le velocità ovvero 30 più 20 metri al secondo diviso 2 questo fa 50 diviso 2 ovvero 25 metri al secondo questo si può fare in questo caso particolare altrimenti la procedura da seguire sarà sempre la prima vediamo ora un problema analogo in questo caso anziché il tempo viene fornito lo spazio quindi un'automobile in linea retta a 15 metri al secondo per 10 chilometri poi a 25 metri al secondo per altri 10 chilometri dobbiamo determinare la velocità media sull'intero tratto dovremmo ricavare t1 il tempo impiegato per coprire 10 chilometri alla velocità di 15 metri al secondo dovremmo trovare t2 facendo una cosa analoga per non fare troppi conti e poi arrotondare facciamo il conto unico cioè la velocità media sarà data dalla somma dei due tratti s1 più s2 fratto la somma dei due tempi t1 più t2 vediamo che questo metodo è quello da preferire soprattutto per la questione arrotondamenti cifre significative s1 più s2 non ci dà problemi sono 10 chilometri più 10 chilometri che fa 20 chilometri ovvero 20.000 metri per quanto riguarda t1 più t2 dovremmo fare s1 su v1 più s2 su v2 così facciamo tutto in un unico passaggio ed evitiamo di trascinarci errori il risultato con tre cifre significative è 18,8 metri al secondo se noi facessimo la media tra le velocità 25 più 15 otterremmo 25 più 15 40 diviso 2 20 e questa velocità è più bassa di 20 metri al secondo ma questo perché l'automobile ha viaggiato per più tempo a una velocità più bassa cioè a 15 metri al secondo pertanto la media sarà più vicino a 15 rispetto che a 25 in una strada trafficata durante l'ora di punta guidi un'automobile in linea retta a 12 metri al secondo per un minuto e mezzo poi rimani fermo per 3,5 minuti e infine procedi a 15 metri al secondo per altri 2,5 minuti disegno un grafico della posizione in funzione del tempo per questo moto e usa il grafico per calcolare la velocità media lungo il percorso. Intanto i minuti possiamo trasformarli in secondi. Sul grafico sull'asse delle ordinate ho riportato lo spazio percorso sull'asse delle ascisse il tempo in questo caso in minuti perché è più comodo ma i calcoli ovviamente andranno fatti con i tempi in secondi. Per quanto riguarda il primo tratto dobbiamo calcolarci 12 metri al secondo per 90 secondi per determinare la posizione che l'automobile occupa dopo il primo tratto. 12 per 90 come risultato fornisce 1080 metri. Allora dovremo andare a posizionare 1080 metri in corrispondenza di un minuto e mezzo indicativamente si trova in questa posizione. Lo spazio percorso S2 ovviamente è zero perché l'automobile ferma e lo spazio percorso S3 invece sarà uguale a 15 metri al secondo cioè la velocità tenuta in questo tratto per 150 secondi. Il risultato in questo caso fornisce 2250 metri. L'automobile ferma per 3,5 minuti pertanto questo spazio qui verrà mantenuto fino a 3,5 più 1,5. Ecco che allora possiamo indicare qui dove si trova l'automobile dopo 5 minuti e negli ultimi 2,5 minuti cioè terminando nel minuto 7,5 l'automobile avrà raggiunto la posizione data dalla somma di 2250 più 0 più 1080 cioè lo spazio finale sarà 1080 metri più 2250 metri la somma fa 3330 metri che andiamo a posizionare qui in questa posizione. Il grafico spazio tempo sarà indicativamente fatto in questo modo. Il problema chiede di determinare la velocità media dal grafico. Sul grafico spazio tempo abbiamo visto che bisogna fare la differenza di spazio percorso perciò qui siamo a zero arriviamo a 3330 la velocità media sarà uguale a 3330 metri diviso il tempo totale che va da zero a 7,5 minuti perciò sarà 7,5 minuti per 60 secondi che fa 450 secondi 7,4 metri al secondo. La posizione di una particella in funzione del tempo è s di t uguale 3,1 metri al secondo per t meno 4,2 metri al secondo quadrato per t quadro. Qual è la velocità media della particella tra gli istanti t1 un secondo e t2 due secondi? Bisogna determinare quanto vale s al tempo 1 e s quanto vale al tempo 2 cioè qual è la posizione della particella all'istante 1 secondo e lo facciamo andando a sostituire al posto di t il valore 1 secondo. Il risultato è meno 1,1 metri. Si fa in maniera analoga il calcolo di s di 2 andando a sostituire al posto di t il valore 2 e allora sarà 3,1 per 2 meno 4,2 per 2 al quadrato che fa 4. Il risultato di questa operazione è meno 10,6. Possiamo determinare quanto vale la velocità media facendo il nostro semplice delta s su delta t ma t2 meno t1 è uguale a un secondo perché è 2 meno 1 e allora qui scriviamo un secondo. S2 è uguale a meno 10,6 metri meno devo fare meno meno 1,1 quindi più 1,1. Il risultato qui sarà meno 9,5 diviso 1 e meno 9,5 diviso 1 fa meno 9,5 naturalmente e questi sono metri al secondo. Spero che questo video vi sia stato utile non dimenticate di lasciare un like molto importante condividete l'esistenza del canale io vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao